Io posso fare da sola, stai scherzando? Non mi fa piacere che per colpa mia abbiate problemi. Nessun problema, è gente che anche noi non sopportiamo. Le minacce di quella ragazzina non mi spaventano, mi fanno ridere. Anche tu mi fai ridere, sbruffone. Vuoi farmi paura? Guarda che non ci riesci. Su, non litigate. Che vuoi fare, Tiago? Subire le offese di questi pezzenti? Io non ci penso nemmeno. A chi hai detto pezzenti? A voi!